Non so cosa succederà Ma che succede? Ranucci Ranucci Sigfrido Me la può prestare per favore? Io vorrei conoscere il suo personal trainer Scusate stavo facendo lo shampoo Ah si? Ma che prodotti usano? Rinforzanti Scoperto un giro di paparazzi abusivi pensate che fotografavano personaggi famosi in situazioni intime senza loro permesso Pensate che siamo riusciti ad entrare in possesso di alcune di queste foto e per mostrarvi la cattiveria di questi soggetti vi mostriamo anche quella scattata Elisabetta Gregoraci in sala d'attesa dall'estetista Prego regia Ma cos'è sta roba? Ma non ho tutti questi belli La famosa Elisabetta Gregoraci Comunque sempre bella Invece richiesta di report riguarda l'ultima riguarda i presentatori di questa serata Chi sono davvero Gigi e Ross? Come mai hanno scelto questo soprannome? E soprattutto chi li ha messi qui? Ecco soprattutto La mafia? Nooo La Sacra Corona? O l'Inps? L'abbiamo anche invitati qui in puntata per darci delle spiegazioni ma come vedete Gigi e Rossi non si sono presentati Siamo qui Eccoci E non è certo una bella cosa che un presentatore Non si presenti Mi raccomando Fai piacere Ci vediamo settimana prossima con il caso dei parcheggiatori abusivi non pagati da Elisabetta Gregoraci Qui a Leppo può cominciare Marco Turano Ma io l'ho spagato Ma non lo so